E' stata la prima a salutare i tifosi un paio di settimane fa, già così calorosi in clima campionato, alla ripresa della preparazione in vista della nuova stagione. Non poteva essere altrimenti, visto che Martina Crippa è l'unica superstite della squadra di due anni fa e che dallo scorso anno ha assunto anche l'importante ruolo di capitano del Gerson Lemura Lucca. Una leader naturale che a Lucca ha trovato l'ambiente giusto e che solo pochi mesi fa ha rinnovato e prolungato il contratto che la lega alla società del presidente Cavallo fino al 2017. Dopo una stagione piuttosto sofferta, ma lei si è meritata la conferma con l'Azzurro della Nazionale, Martina crede profondamente nelle chance della nuova squadra allestita dal DS Lidia Gorlin. Speriamo di riuscire a fare bene e di fare qualche passo in avanti anche rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso è stato molto importante perché è stato un anno di transizione, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima annata e quindi è stato bellissimo il campionato che abbiamo fatto. Ovviamente dobbiamo migliorare su alcune cose, abbiamo avuto alcune partenze purtroppo, però anche arrivi importanti che ci daranno ancora molta più sia solidità che anche esperienza e quindi speriamo di migliorarci ancora. Le esigenze di squadra, vabbè ci mancherebbe altro, ma non vanno trascurate anche le ambizioni personali. In soldoni ci si può ritagliare uno spazio anche per se stesse. Di riuscire a migliorarmi ancora di più, cercando di migliorare tutti gli aspetti in cui devo migliorare, soprattutto cercare di riuscire a dare il mio contributo per la squadra, per le mie compagne, quindi riuscire a dare sempre il 100% in campo per me, per loro e così per tutti. Grazie. 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 Grazie.